La piccolina di casa Carrisi si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Jasmine Carrisi mette a segno una collaborazione prestigiosa, c'è una componente del clan, Carrisi che da qualche tempo a questa parte si sta facendo sempre più spazio nel mondo. Ci riferiamo a Jasmine Carrisi, che da qualche anno ha iniziato a seguire le orme del celeberrimo padre. Biondissima, con gli occhi chiari e dalla bellezza prorompente, la ventenne ha debuttato inizialmente come attrice in un film in costume, ma ha sempre desiderato, in realtà, diventare una, e per questo che già nel 2020 ha lanciato il suo primo singolo, Ego, e pochi mesi dopo ha affiancato Albano come coach della prima edizione di The Voice. L'estate successiva ha fatto quindi ballare la penisola con la sua seconda fit, Calamite un tuffo al cuore, collaborando inoltre a Stichide di Dani K. Fit. Chico il Cresi, ora arriva per lei un nuovo progetto, che la vede lavorare fianco a fianco con l'icona della musica italiana. Un pezzo uscito da poco e che ha già ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolti. Jasmine Carrisi, ecco con chi duetta nella sua nuova fit. Il 15 luglio scorso è uscito il singolo Nessuno Mai, che la vede duettare con il rapper Clementino, sulle tracce del grande successo di Mina Nessuno. Pezzo del 1900 C. Ma non c'è solo l'artista campano a lavorare al suo fianco, sì, perché a fare in questo caso da Spalla, alla bellissima Jasmine c'è anche il padre, Albano, che appare in qualche traccia con il suo inconfondibile timbro vocale. I due minuti di canzone sono il mix perfetto di rap, melodia e rime facili da memorizzare, e si avvia già a diventare uno dei tormentoni di quest'estate 2022. Questa volta ho dato retta a mia figlia, ha esclamato il cantante pugliese alla presentazione del singolo. E, stata infatti proprio Jasmine a scegliere di reinterpretare il pezzo di Mina, certa che la nuova versione potesse risolversi in un grande successo.